Grazie a tutti. Sono un aspirante montatore, è un piacere davvero averti qua. Io sono Davide, sono un aspirante sceneggiatore, quindi siamo tutti e due nel cinema. Ci fa piacere averti veramente, è grandissimo il tuo lavoro, incredibile. Non vedo l'ora di chiederti un sacco di domande sul tuo lavoro per farti capire quanto sono fan. Ho portato una cosa che non so se si vede. Questo è un autografo di Charlotte Gainsbourg sul Blu-ray di Nymphomaniac che l'ho incontrata l'anno scorso a Milano. Ok, per strada. Magari. È venuta a presentare il suo documentario, quello con sua madre. Ok. Non so se l'hai visto. Non l'ho visto, non l'ho visto. Molto bene. E credo tra l'altro sia un suo esordio alla regia o qualcosa del genere, mi pare. Capito. No, è una famiglia interessante. Sì. Senz'altro, sì. Che ricordi hai di lei così per... No, solo buonissime. È un'attrice incredibile. È anche una persona bellissima. Lavorare con lei è sempre un piacere gentilissima, professionalissima. Sì, anche mi piace molto che lei... Molto richiede una serietà, anche solo con la sua presenza. Richiede che tutti siamo molto infocati, precisi. Bene, bene. Però allo stesso tempo è gentilissima, sempre anche umanamente un piacere. E voi siete dove? In Italia. Io a Milano, vicino a Milano. Io vicino a Torino. Ok. Ok, ok. Sì, io a Copenaghen, mi chiamo Manuel. Claro, sono fotografo, cinematore, DOP, direttore di fotografia. Non so come si dice in italiano. Direttore di fotografia. Bravi. La storia è che io ho vissuto, quando ero giovane, ho vissuto a Monza, un po' fuori Milano. Lì ho imparato l'italiano. Però stiamo parlando dell'anno 90, 92. Dal 90 al 92. E quanto sei stato in Italia? Due anni. Ah, cavolo, solo due anni? Sono stato in Italia per due anni, sì. Quando, dopo il liceo, sono andato, ho fatto due anni allo IED, lo IED Istituto Europeo. Però fotografia, come si chiama, fotografia fista, non so come si dice, fotografia tradizionale. Ti faccio la prima domanda, prendiamo un po' di fotografia. Com'è nata la tua passione per la fotografia? Com'è nata? È nata quando ho avuto una camera, una camera, una snapshot camera, da mio papà, quando avevo 13 anni, per il mio compleanno, mi ha regalato una camera, ho iniziato a fare delle foto e lì è nata la passione. Dopo aver fatto un paio di rulini ho capito che questa era una cosa che mi piaceva, anche che per me stesso le foto venivano abbastanza bene, non lo so, avevo alcun, diciamo, un'esperienza di successo e questo, e lì è nata la passione per la fotografia. Dopo ho seguito un po' il passo della fotografia fissa, diciamo, della fotografia classica, e un certo momento quando, sì, sono andato a Milano a farlo IED, dopo sono stato negli Stati Uniti per un paio di anni anche a fare una scuola, lavorato un po' come assistente, dopo sono tornato a Copenaghen e mi sono trovato un po' non sapevo bene cosa fare, mi piaceva la fotografia, però non riuscivo bene a lavorare, non mi piaceva l'ambiente, diciamo, io ero più, forse mi trovavo più, perché lavoravo come assistente, più in un ambiente commerciale, un po' di moda, un po' di pubblicità, e non ero molto appassionato di questo genere di fotografico. Ho visto un annuncio nel giornale dove potevi, come si chiama, applicare alla scuola di cinema, e io ho pensato, ah, cinema, mi piace andare al cinema. Uno poteva applicare anche come fotografo, pensavo, ok, benissimo. Sono, ho applicato, ho fatto l'applicazione, sono andato, questo era nel 96, 97 forse, 97, sì, ho iniziato nel 97, e sì, ho fatto tutta l'applicazione, la scuola, la scuola di cinema, ma, diciamo, nazionale, di Danimarca, dove io non avevo mai stato su un set, non sapevo cosa vuol dire fare cinema, mi piaceva andare al cinema, però farlo non sapevo cosa vuol dire, però in quel momento la fotografia fissa era importante, era una delle maniere per imparare fare il fotografo, e mi hanno, suppongo che hanno, è piaciuto la mia fotografia, anche, non lo so, e mi hanno accettato, perché prendevano sei fotografi ogni due anni, vuol dire, diciamo, tre fotografi all'anno, e quando ho iniziato ho capito anche che gli altri miei compagni avevano molto più esperienza, però, però, però sicuramente i professori pensavano che io avevo qualcosa altro che serviva. Sì, 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 è andata bene. È andata bene, sì. E quanto è durata la scuola, quella scuola lì? Quattro anni, quattro anni specializzato di, come fotografo, no? C'è la linea del fotografo, regista, montatore, suono, producer, produttore, sì. Quelle sono le cinque linee di, diciamo, di cinema. La scuola è più o meno la stessa oggi, sì. C'è anche le linee che fanno regia di documentali, animazione, però quelli cinque linee andavano tutti insieme, facevamo tutti i progetti e ci facevamo i turni per lavorare così che tutti, almeno tutti i registi, lavoravano con tutti, diciamo, le linee più tecnici. Anch'io ho fatto, in verità, mi sono appena laureato a una scuola di cinema e funziona esattamente così anche in Italia, sì. Ok, e dove? A Milano proprio. A Milano, ok. Ci sono vari indirizzi e tutti collaborano per fare qualcosa insieme. Sì, sì, è lo stesso. Il mio indirizzo era proprio montaggio. Ok, ah, bellissimo. Anche perché, secondo me, la vera scuola di cinema è stare con i tuoi compagni e sviluppare le idee, fare i film, più che ascoltare un professore o guardare i film, sì. Fare, fare. Giusto, giusto. E con i tuoi compagni, non farlo con, devi anche trovare i tuoi amici che sono allo stesso livello, più o meno, svilupparti insieme, sì. L'ho fatto anch'io nella mia scuola di sceneggiatura. Ok. Si lavorava insieme. Sì. No, anche alla scuola danese c'è la linea di sceneggiatura, che adesso, in quel momento era solo due anni, gli altri erano quattro. Adesso anche sono anche quattro anni per i sceneggiaturi, quelli che scrivono sceneggiatura. Sceneggiatura. E invece il passaggio dalla scuola al primo film? Sì, no, io nella scuola sono stato molto fortunato, ho trovato velocemente, la verità è che il primo esercizio che c'era nella scuola l'ho fatto con un regista, un compagno di scuola che si chiama Christophe Erboe. E noi compartivamo gusto, non lo so, che comunque abbiamo fatto tanti esercizi, anche la scuola, come si chiama, il film di laurea, come si chiama? Sì, 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 film di laurea. Sì, il film di laurea l'abbiamo fatto insieme e quando ci siamo laureati c'era una produttore, una produttrice grande in Danimarca che è andata da lui al regista, ha detto, vieni da noi a fare il tuo primo film perché il film di laurea ci è piaciuto. Lui ha detto, sì, va bene, però porto i miei compagni. Allora siamo andati tutti, abbiamo fatto un film, sì, sarà stato, sì, come si chiama, il budget era basso, però comunque era un budget. Certo. Sarà stato tipo, diciamo, 800.000 euro, credo. Oh. Sì, no, no, era un budget. Sì, sì, era un budget. Era un budget e abbiamo girato questo film, è andato molto bene, è andato a Cannes, ha vinto il, come si chiama, il Camerador, che è un, che è, tanta gente pensa sbagliato che è un film, che è un premio per la fotografia, però è infatti per il primo lavoro, per il primo, come si chiama, per la prima opera. Sì, 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 opera premio. Sì, sì, è una migliore opera premio. No, è quello stato incredibile. In quel senso, diciamo, ho finito la scuola, forse è passato un anno, abbiamo girato il film e dopo un anno dopo è andato a Cannes e la mia carriera, diciamo, è iniziato con quel film. Sì, perché anche quel film è viaggiato, è stato venduto per tanti paesi, circoli, diciamo, cine-arte. Sì, però è, sì, 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 anche, sicuramente anche in Italia credo che è uscita, stiamo parlando del 2003, vent'anni fa. Com'è stata la tua esperienza italiana, la tua esperienza in Italia? No, è stata molto bella, molto bella. Era, come dicevo, facevo fotografia fissa. Era un po' come la scuola di cinema, eravamo un gruppo di studenti, colleghi che abbiamo, c'era un gruppo molto forte di studenti che secondo me era la scuola, era la scuola. Noi insieme, noi tra noi, ci insegnavamo, ci spingevamo a far meglio e dopo la scuola era a Milano, però quello che mi ricordo tutti erano fuori di Milano. Siamo tutti arrivati da fuori, allora eravamo tutti, diciamo, stranieri in qualche senso. Tanti erano italiani, però non avevano la famiglia, diciamo, a Milano, allora in quel senso eravamo un gruppo di, sì, che cercavano una nuova famiglia, diciamo, e quello era molto bello, anche per quello penso che il mio italiano l'ho imparato velocemente perché eravamo un gruppo di amici che, no, nel senso è stato bellissimo. La mia esperienza italiana. Dopo sono andato in una scuola negli Stati Uniti dove non c'era questo gruppo, diciamo, la scuola era molto più bella, nel senso che aveva molto più attrezzatura, era più facile lavorare, però non c'era il gruppo che ti ispirava, eri più solo e in quel senso la scuola italiana era molto bella. Che secondo me è quello che ti fa lavorare, che ti fa sviluppare idee, sono gli amici, diciamo. Per aver fatto due anni in Italia, se è giusto, parli molto bene l'italiano e te lo ricordi veramente bene, complimenti. No, diciamo anche, io sono cileno, sono nato in Cile, parlo spagnolo con mia mamma, per quello l'italiano... Quindi aiuta un pochino. Aiuta un pochino, sì, sì, anche per quello non... è stato facile da imparare. E anche, secondo me, però forse è una cosa che invento io, secondo me l'italiano è la lingua più bella, più musicale, più naturale. Addirittura. Sì, sì, che per me, non lo so, per qualche ragione è come si trovi la melodia, la musica e parla. Beh, tu lo puoi dire, conosci l'inglese, lo spagnolo, l'italiano, il danese, immagino. Sì, sì. Conosci un sacco di lingue. Sì. Se lo dici tu, ci fidiamo. Invece, com'è nato il rapporto con Lars von Trier? Come ti è capitata questa cosa qua? Dopo il tuo primo film? Sì, no, sono passato, io ho finito la scuola di cinema nel 2001. Nel 2010, io non conoscevo Lars von Trier, lo conoscevo certo come un grande regista, però non lo conoscevo personalmente. Lui stava per fare Melancholia e la storia è che lui la stava sviluppando, diciamo, stava con Hoyt, Van Hoyt, ma... Sì. Però Hoyt ha lasciato il progetto alcuni mesi prima di iniziare e hanno cercato un nuovo DOP. Sì, lì io conoscevo alcuni dei suoi, diciamo, produttori con cui lavora e mi hanno chiamato, mi hanno mandato alla sceneggiatura, mi hanno chiesto di trovare Lars. Anche so che lui ha incontrato altri fotografi anche. Sì, sì, quella è la storia, mi hanno chiamato un giorno, ero per caso in vacanza in Italia, mi chiamano... Dove? A Parma. Mi chiamano e mi dicevo, sai, Lars sta cercando un nuovo fotografo, ti piacerebbe? La cosa pazzesca era che io avevo il calendario vuoto, che era una cosa stranissima, perché io avevo lavorato per dieci anni, avevo lavorato continuamente, avevo fatto due o tre film all'anno, però avevo appena compiuto 40 anni e per qualche ragione avevo detto no a tanti progetti. Non so, l'unica scusa che avevo era qualcosa meglio uscirà. Sì, uscirà fuori. Uscirà fuori. Dopo un paio di mesi mi chiamano e è uscito questo. Beh, sì. Rispettabilissimo. Sì, e lì ci siamo conosciuti, sono andato a trovarlo, abbiamo avuto una riunione, la mia memoria di quella riunione è che lui parlava tutto il tempo, mi raccontava e suppongo che avrà visto qualcosa che ho fatto, però secondo lui no. Sì, dopo un paio di giorni, una settimana, mi chiamano e mi dicono se voglio fare il film. E niente, sì, così è iniziato il rapporto. Io, per me, Lars era già, per me, forse il regista più grande del mondo. Nel senso, nel senso, diciamo che la mia esperienza come spettatore, avevo avuto le più grandi esperienze, non so, diciamo, emozionalmente, emotivamente, guardando specialmente gli idioti e anche Antichrist. Quando avevo visto questi due film sono rimasti, non so, non lo so, una cosa stranissima che non ho capito. Sì, 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 sì. Succede molto poco. E perché sono dei film, anche tutti e due sono dei film strani, però per alcuna ragione mi sono entrato. Ti sono rimasti dentro proprio. Lars ha questo potere di fare dei film che ti copiscono dentro. Si è proprio a studiare l'animo umano. Sì, sì. E io avevo questo sogno segreto, diciamo, di lavorare con lui, però lui aveva avuto un periodo dove lui, quello che io chiamo, il suo progetto era distruggere il cinema. Quando, già, diciamo, quando ho iniziato con Dogma, dopo anche Dance in the Dark, Dogville, Mendeley, dopo anche il capo di tutti, non so se si chiama, The Post of the Hall. Tutti questi film si trattano di distruggere il cinema, diciamo, di distruggere il cinema come un mestiere, diciamo, artesanale. E allora io pensavo, ok, non succederà mai perché un fotografo non c'entra in quel progetto di distruzione. Invece ho avuto la grande fortuna che lui, secondo me, lui è tornato al cinema con Antichrist, è tornato al cinema e adesso sta mischiando, diciamo, tutto quello che ha imparato mentre distruggeva e lo sta mischiando con il cinema, diciamo, con l'amore al cinema classico. Sì, è una visione molto interessante della sua filmografia, appunto, una lettura dei suoi film. E com'è stato passare da spettatore che veniva in qualche modo a persona che fa? Cioè, c'è una diversità, c'è una linea. Com'è stata questa cosa qua? Sì, quando uno lavora, quando uno fa i film con lui anche, fai un lavoro. È un lavoro, certo che leggi una sceneggiatura che non hai letto mai niente del simile. Anche quando giri le scene, anche capisci che a queste scene non c'è niente che si assomigli a questo che stai facendo adesso. E questo, logico, è una bellissima esperienza, andare a lavoro tutti i giorni e vedere questo. Però, diciamo, però anche lavorando con Lars perdi anche un po' questa esperienza di spettatore, perché non puoi avere, non puoi avere, sei, sono troppo coinvolto nel tutto il processo. Nel processo, lui è una persona molto divertente, molto simpatica, è molto divertente lavorare con lui. Sì, secondo me è un genio. Però a parte di quello è anche, non è una persona, lui ha tanta, diciamo, nella sua vita privata, personale, ha tanta, come si chiama? Angoscia, però nella vita professionale non c'è, non ha paura di niente. È un, è un, è il regista più, diciamo, con meno paura. Sempre, sempre va al di là, sempre va più lontano, più, Lui fa sempre una decisione, una decisione, quello che uno, come si chiama, brave, una decisione. Coraggio. Sì, la decisione, la decisione. Prende sempre la decisione coraggiosa, non prende mai la decisione sicura, la decisione sicura, la decisione facile, dove ti senti a tuo agio, dove ti senti bene. però lo fa in un modo divertente lo fa in un modo non non ha dubbi per lui non è coraggioso per lui naturale per cui per lui è un parte e lui consiglia lui dice io sono un mi danno dei soldi per fare dell'arte e il mio dovere essere coraggioso non è un non è una domanda di di è il mio dovere il mio non posso non posso chiamarmi artista e progressivo non è che lui si chiama progressivo però si chiama lui è un'espressione danese che si chiama un radicale culturale un radicale culturale non so come si cultural radical cultural cultural radical non so non so bene come si traduce però è una è una un po una un'espressione storica in danimarca dove si tu sei uno che che vuole cambiare il mondo cambiare il sistema e lui si considera un un radicale col culturale quindi lavoro come lavorare con con l'arte sempre per te che vi scontrate o andate sempre d'amore d'accordo durante le riprese il vostro punto di vista è sempre quasi a fine io non sono lì per insegnarlo segnali a fare cinema io io faccio la mia esperienza è che che quello che è che lui si immagina funziona non si sa non si capisce bene come però funziona però funziona e certo io gli faccio le domande classiche classiche ci sono cose nella sceneggiatura che non capisco però 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 non è che discuto con lui non è che gli dico non credo quello è una brutta idea non direi mai una cosa così perché le sue idee sono sì sì c'è una brutta idea e lo fa appunto no è certo non è a posto ti devi come si dice surrender devi arrenderti arrenderti si lavori con lui non puoi lavorare con lui essere domandare il suo modo di far cinema e parlando sempre di melancolia che è un film che io personalmente adoro è un film bellissimo visto un sacco di volte è un film molto complesso anche dal punto di vista di luci proprio di fotografia è stato difficile capire lavorare in un film del genere che a livello proprio tecnico è stata una bella una bella sfida sì è stata una bella sfida diciamo io non avevo mai fatto un film questi con questo livello di vfx di però però diciamo io avevo tanta gente che mi aiutava il supervisor di vfx che uno peter york con cui lars ha lavorato da tanti anni lui è così dentro di tutto il processo è un è stato veramente un una bellissima esperienza nel in quel senso perché 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 lo risolvevamo insieme non era non mi sentivo solo con i problemi sì 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 e anche no è la verità è che è stato bellissimo una collaborazione anche con sia con lars però anche con peter di sviluppare anche come il pianeta come come è il pianeta come è andata la discussione di che colore è come lo facciamo esatto sì come la faccio tutte queste discussioni le avevamo fatto tantissime prove abbiamo fatto il problema è un po che uno per io credo per sentire un po la la diciamo la il paura del pianeta deve avere alcuna qualche referenza al pianeta per quello abbiamo alla fine abbiamo fatto tantissime test però abbiamo deciso di farlo assomigliare alla luna perché l'unica diciamo l'unica pianeta o l'unica cosa in spazio che noi certo vediamo che noi vediamo che noi vediamo che gli umani che noi possiamo vedere per quello forse l'abbiamo fatto un po più blu ci sono delle immagini dove vedi la luna è melancolia nello stesso quadro e si vedi uno un po più blu l'altro più più giallo però però sempre in quel perché si guardi anche sì tutte le diciamo le immagini che conosciamo di saturno marzo sono tutti sono fotografie che non si sa bene si sono manipolate non si non sono non sono state fatte con una camera normale nessuno è andato lì a fotografarli però forse un giorno qualcuno andrà esatto magari in futuro chi lo sa chi lo sa un'altra cosa quando ho letto la cineggiatura di melancolia è che leggendola capisci già che questo è un film bellissimo un film visuale un film tutta la l'apertura 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 era descritto abbastanza dettagliato nella sceneggiatura un matrimonio un matrimonio è sempre un quello che io chiamo film candy e come e come come dolci caramelle vicine ma è materiale che che amiamo amiamo a vedere feste in cinema dove la gente si veste un po bene ballano questi rituali tutto tutto c'erano tanti elementi nella sceneggiatura già che uno capiva che questo è un film che questo sarà un film bello e dopo avevano già trovato il castello diciamo una casa questa è la location e quando vedevi quello che ci pensavi ok questo è un posto pazzesco no la sfida diciamo per secondo me la più grande sfida era non non fare il film diventare troppo bello non farlo diventare così che ti che ti stacchi un po del diciamo del drama stai guardando cose si si vede proprio che c'è questo animo no di di queste immagini bellissime questi posti bellissimi però c'è anche il fatto che è un film comunque di la svantrieri e c'è anche quell'elemento lì sempre di angoscia sempre anche come dici tu non è esattamente un film candy è il matrimonio che viene fatto vedere melancolia ho sempre però diciamo quelle immagini lì del degli interni molto gialli molto candele quasi bellissimo bellissimo incredibile no no quello che volevo dire che c'erano tanti elementi belli già nella sceneggiatura sì 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 però appunto il film alla fine comunque sì sì molto importante e volendo ben vedere per quanto si vuole comunque un film che anche questo ti entra dentro ti fa fa lì ecco ti ti fa riflettere sì è strano perché se segui questo questo protagonista questa protagonista che ha una diciamo una depressione non chiaro malata è difficile fare non so dire sì però lars a un sa come fare queste cose queste diciamo malattie sì che farli universale farli diventare interessanti per per tutti tutti che sono quelli che vogliono certo non tutti tutti però abbastanza dimmi un po come descriveresti il tuo stile come direttore come direttore della fotografia come descriveresti descrivere non lo so io quello io vorrei una camera che diciamo è diciamo innamorato dei personaggi io credo che sono più interessato alla gente che ai ai locations però spero che anche lo bilancio però però è anche io quando giro un film quello che lo che trovo divertente è star lì con gli attori star lì io però la camera non sempre però quasi sempre ce l'hai tu se ce l'ho io e mi piace secondo me è un po come fare documentale e stare lì essere presente capire cosa succede ascoltare ascoltare già cosa succede cerco anche che 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 la mia immagine è quello che io chiamerei ha una certa che si sente naturale non so cosa vuol dire però diciamo più naturale che che io ogni tanto uso l'espressione ogni tanto alcune cose sembrano un po profumati che hai fatto una cosa per l'hai dato un po troppo troppo trucco troppo io cerco di farlo più naturale più meno make up cioè si trasferire la naturalezza piuttosto che la difficoltà se l'artificiosità sì 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 io credo che questo è il mio gusto preferisco che la fotografia non non prenda attenzione a se stesso preferisco che certo in melancolia è un po difficile perché ogni tanto anche ci sono delle sceneggiatura dove capisci che la immagine è un uno dei protagonisti però comunque cerco di non sì che la camera non che non prenda attenzione della situazione che 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 la camera più una che aiuta la storia più che essere la storia certo ok certo e dopo certo ci sono momenti in tutti i film dove diciamo dove diciamo dove la camera forse anche e la storia però diciamo sono momenti pochi momenti e invece parliamo sempre di di un altro film vabbè l'abbiamo visto e insomma nymphomaniac è il secondo film che hai fatto con giusto film in due parti che poi è diventata una da quasi sei ore insomma un film incredibile lunghissimo un colossal un filmone un filmone esatto bravissimo un filmone in italiano si dice proprio filmone come è stato lavorare a quell'esperienza lì ci sono tanti materiali d'archivio un film che parla veramente di tutto nymphomaniac sì sì immagino che anche la sceneggiatura sarà stata una cosa una cosa lunghissima esatto sì sì 500 pagine di 260 pagine me lo ricordo 260 pagine io credo che per me nymphomaniac è forse il mio film preferito di quelli che ho lavorato io con l'arco con l'arco con l'arco sì perché secondo me l'arco ha cercato di inventare un nuovo genere molto ispirato un genere che forse esiste nella letteratura però che non è una cosa che ho visto in cinema credo diciamo questo che lui lo chiama il digressionismo lui ha inventato un genere dove lui può parlare di tutto io credo che lui sempre ha delle cose che vuole che li preoccupa che vuole parlare di cui vuole parlare però però cerca un diciamo un marchio un frame in questo caso una nymphomaniac è una cosa che ti dà un po' curiosità però un po' come melancolia nymphomaniac è anche un ritratto io direi di una malattia di una malattia essere nymphomaniac è un po' come essere un addicto dipendente dipendente è un ritratto di essere dipendente sei dipendente di qualcosa dentro di te che ti porta a fare delle cose che non sono sempre raccomandabili sì io credo che Lars lui non credo che è nymphomaniac però lui conosce questa dipendenza delle cose dentro di te che sei che ti fa ti fa e nel tragetto di diciamo di fare un ritratto della dipendenza parla di tutto parla di tutto quello che vuole io non lo so se forse nel momento lui sentiva un po' che forse era il suo ultimo film per quello volevo parlare di tutto per quello ha fatto un film di 5 ore e mezza no è stato molto bello perché la sceneggiatura era bruttissima diciamo non c'era nessuna immagine piacevole in quel film in quel senso il lavoro per me era forse diciamo più interessante che in melancolia dove era già tutto bello sì era già tutto bello qua farlo diventare interessante comunque far dargli alcun tipo di linguaggio cinematografico giocare con tutti questi anche sì era una idea di Lars quello che mi diceva nel momento era che lui secondo lui secondo lui il melancolia era un film che l'espressione è anche un'espressione danese però io credo che la conoscete in Italia quando metti formaggio sopra formaggio ti mangi il formaggio sopra il formaggio è troppo troppo sì 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 per lui era troppo bello la bellezza visuale Wagner era troppa roba così troppo 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 grasso troppo grassa sì 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 ho capito e lui voleva fare un film che era che era più punk diceva punk che lui voleva fare un film che era un po' sembrava con un po' di energia di scuola di cinema con dove si fa quello che vuoi e dici fuck you ai professori sì 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 si sente molto quella cosa qua nel film sì e lui voleva fare lui voleva perché già nella cena c'erano i capitoli 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 sì 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 e allora abbiamo cercato un po' di fare dei stili diversi per ogni capitolo non è che si secondo me non è che tutti i capitoli si capisci si distinguono così tanto però c'è uno bianco e nero c'è un capitolo anche che dove la camera tutta è fissa tutto il capitolo è una camera fissa c'è il questo questo capitolo con humer Thurman dove come si chiama il aspetto è diverso e anche negli altri avevamo delle idee però che non che non che non si distinguono così tanto no in quel senso è stato molto divertente girarlo e invece il film più difficile da girare qual è stato? con Lars non direi che è sorprendente i film più difficili sono i film dove io per alcuna ragione non so non vado totalmente d'accordo con il regista diciamo anche ho lavorato alcune volte con dei registi che hanno molto quello che io chiamo paura che hanno paura di sbagliare che hanno paura che fanno le che prendono fanno le decisioni diciamo sicuri invece di farli quelli coraggiosi e quello non è che difficile però è più che più noioso certo il processo è un po' noioso secondo me la parte più difficile di essere direttore di fotografia è la collaborazione con il regista capirsi capirsi fare un film che 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 lui o lei senta il suo allo stesso tempo speriamo anche interessante e dove anche io sento che uso quello che io so fare quello che sono i miei diciamo talenti o quello che si si la parte tecnica dopo vai anche sull'internet e trovi tantissimo materiale in quel senso non sono un hoite che va a nope quando fanno questi day for night incredibili non avrei mai immaginato che si poteva fare così lui è sia un maestro di tutte e due i lati il tecnico invece parlando dell'ultimo film al cinema di Lars The House that Jack built quell'esperienza lì invece come è andata quanto è stato difficile insomma è l'ultimo film che ha fatto al cinema perché dopo c'è un'altra cosa che è uscita l'anno scorso mi pare l'anno scorso però come è andata quell'esperienza lì no diciamo girarla è andata bene e secondo me è un film un po' non è venuta così bene il film però secondo me non è venuta bene dici non è venuto bene no non è che non è venuto secondo me ha sempre sul suo diciamo sul suo come si dice sul suo spazio nel mondo certo 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 però dentro dei suoi film secondo me non ha la connessione emozionale non è così forte io per me io diciamo i soggetti tutti i discorsi che fa secondo me sono interessanti però io non lo so forse sono un po' in prima di tutto perché c'è questo come come il nymphomaniac c'è il dialogo tra Jack è questa persona che non si capisce bene chi è fino alla fine fino alla fine si sente sul come si chiama sul audio il voiceover si sente questo dialogo però non si sa chi sono e non si capisce fino alla fine chi io credo che dopo anche credo che Lars stava cercando facciamo un ritratto di una persona che non ha niente di amabile una persona odiosa sì una persona un psicopata che sì facciamo un ritratto di perché secondo lui quello che lui credo che cercava secondo lui anche se basta stare con lui un'ora e mezza e inizia a sentire qualcosa per lui capirlo inizia a capirlo forse era un po' forse aveva una una connessione anche con il suo commentario su Hitler forse c'era qualcosa lì come nel film di Untergang con Bruno Ganz certo stai con Hitler due ore inizi a capirlo capirlo diciamo non capirlo chiaramente sì però umanamente forse umanamente certo sì e io credo che lui stava un po' cercando di diciamo di di vedere se questo era era possibile fare un film e io secondo me lui si è dato tanti come si dice ostacoli ostacoli no a se stesso a se stesso prendi una persona che non è amabile un psicopata un serial killer in più non capisci con chi parla e in più tutte le sue relazioni e tutto è anche secondo me tanti di quello che di quello che parlano è molto intellettuale e tutto questo del cosa è l'arte cosa sì secondo me il Nymphomaniac va dappertutto Certo The House that Jack built è molto più centrato su 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 meno cose diventa un film un po' più piccolo però comunque no no comunque sono amo il film non è quello però dopo pensavo perché secondo me lui forse ha cercato di aiutare al spettatore troppo troppo poco diciamo sì sì troppo poco tra l'altro in quel film lì verso verso fine a fine c'è anche una grandissima citazione proprio letterale ai suoi film sì sì vero c'è anche proprio un momento in cui lui in qualche modo si si autocita e si paragona al processo di creazione dell'arte che è incredibile a mio parere è incredibile la cosa bellissima bolle ma bellissima quindi insomma è comunque immagino per lui comunque molto importante parlare di determinate cose e farlo in quel modo lì con quel personaggio lì insomma è molto coraggioso sì capisco quello che intendi con gli ostacoli i paletti sì sì ok io ti faccio la mia ultima domanda è un po' più per te qual è il tuo film preferito hai un film preferito tu dici nella storia del cinema tuo proprio tuo film che magari dici stasera mi guardo un film cosa mi guardo io amo questo film ma io guardo tanti mi dicono sai c'è c'è il tuo film preferito sì il mio film preferito io ho ho un paio dipende un po' chi mi chiede però no io credo che per me personalmente otto e mezzo è stato forse il film che mi ha fatto diciamo amare il cinema capire il cinema diciamo come 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 modo di raccontare come come sì come medio sì anche come artesano come si fa come si cosa sì la la mischia tra poesia secondo me per me otto e mezzo è stato per me personalmente è stato credo il film che mi ha fatto sì amare il cinema io credo che umanamente diciamo nel 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 mondo il mio film preferito è forse il grande dittatore di chaplin però non è perché è stato girato particolarmente bene però è un film certo che c'è anche tutto l'aspetto diciamo il timing tutto il lato politico certo però anche secondo me ancora chaplin secondo me è il regista con il più grande cuore e questa è una cosa che a me almeno piace molto io sempre cerco il 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 cuore e questo è un po' credo che quando dico che la mia camera di alcuna maniera è innamorato dei caratteri e vuole e sto cercando un po' il il cuore di chaplin il cuore diciamo di questa visione molto romantica bella della della umanità dell'umanità sì bellissimo il grande dittatore ce l'ho in dvd nella mia collezione immancabile in più certo tutta la storia di che lui l'ha fatto con i suoi soldi nessuno lo voleva quando l'ho presentato nessuno lo aveva voleva nessuno lo voleva perché in quel momento tutto il mondo erano amici di Hitler però mentre lo faceva sono diventati nemici però quando ha iniziato tutti dicevano no 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 non vogliamo problemi e l'ho fatto lo stesso perché lui non sapeva che quanto era quanto aveva ragione infatti se non sbaglio aveva cambiato il finale poi il monologo finale l'ha scritto dopo sì no no è molto probabile perché lui ha iniziato a girare e credo che la guerra ha iniziato mentre lui girava sì perché quando lui quando ha iniziato era un po' un ritratto di un di un uomo sì di un uomo di Mussolini uomini un po' gonfiati diciamo certo però mentre lo girava è diventato un po' un po' peggio l'ultima cosa che ti chiedo è la serie The Kingdom la terza non so se si può chiamare terza stagione non so come la chiama la terza parte ecco come è stato prendere in mano qualcosa che c'era già The Kingdom c'era già come è stato riprendere anche proprio a livello fotografico che c'è un bellissimo lavoro quel lavoro che entra dalla porta è bellissimo la sigla con lo stesso stessi colori le stesse c'è un c'è un lavoro molto interessante che che fai sia tu che chiaramente che la Svontrier dietro a proprio a quasi replicare un certo tipo di estetica che c'era già stata credo negli anni 90 forse sì sì no Lars voleva che che questa terza parte sarebbe una cosa naturale una terza parte naturale non voleva inventare una cosa nuova io credo che lui spera che forse fra cento anni quando tu la guardi allora i 20 30 anni che hanno sono passati tra la seconda e la terza parte diventano non tanto certo ma adesso nell'epoca del digitale più non importa più sì sì ma in quel senso diciamo sì in quel senso non era una sfida fotografica così non 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 sì sì non non è che dovevamo inventare qualcosa era più un lavoro di di cercare di di si replicare rimanere nello stesso spirito della vecchia però lo abbiamo fatto diversamente anche abbiamo usato più lo zoom anche molto è stato girato con due camere in più per me quel progetto era era un era un progetto un po' più diciamo un po' più di lo chiamo di scrivania nel senso che io avevo due tre operatori io ho operato molto poco in quel perché sì perché avevamo ogni ogni tanto avevamo tre unit che giravano allo stesso tempo allora era un lavoro di organizzazione enorme c'erano tantissimi effetti speciali era tutto un era sì era più che altro di quello che mi ricordo era creare un come si chiama un schedule un production plan comunque era bellissimo perché secondo me si hai attori incredibili incredibili anche scene che non sai di dove vengono fuori è tutto tutto sì sì comunque anche il fatto di distribuirlo tutti insieme comunque credo che 5 ore e mezza 6 ore tutte attaccate insomma molto interessante come progetto proprio la prima volta l'ho visto finito insieme a Venezia c'erano credo 2-3 mille persone no è stato bellissimo dopo l'abbiamo anche visto c'era un premiere qua a copenhagen dove forse mille persone in cinema molto bello è stato bellissimo anche allora alla fine l'ho visto solo tutto attaccato non l'ho visto episodi aspettiamo di vederlo anche io l'ho visto però in Italia non non credo sia stato ancora distribuito ok ho visto in coppie su Mubi spese credo però non Italia Mubi mi pare sì sì so che Mubi credo che ha la distribuzione mi pare ma non vorrei dire sì sì se qua in Scandinavia si chiama Viaplay il streaming che sono quelli che l'hanno diciamo finanziato sì che fanno quindi hanno anche un canale televisivo quelle persone lì no diciamo è più come Netflix non è un canale una piattaforma una piattaforma dopo è stato anche nella stazione danese nazionale tipo la Rai danese l'hanno anche fatto vedere però mi dicevano che comunque lì da voi comunque è una serie comunque storica è molto importante quindi c'era attesa da parte di tutti chiaramente però comunque da parte danese dico era comunque una cosa importante senz'altro e anche ci sono tante tematiche che sono prima c'è anche la relazione tra Danimarca e Svezia che forse non so quanto si capisce però quella è una gran cosa qua dopo anche questo ospedale un ospedale il più grande ospedale qua a Copenhagen in Danimarca che tutti lo conoscono e in più quello che Lars ha fatto nella epoca è che ha preso tantissimi attori molto amati dentro di questo contesto un po' assurdo è stata una gran cosa oggi diciamo nella epoca nel 94 quando è uscito non c'era tanta serie c'era molto poco c'era anche sì allora era tutto in Danimarca tutti lo vedevano oggi è un po' diverso oggi c'è un po' più scelta eh sì oggi sì è cambiato è cambiato un po' tutto è cambiato il mercato è cambiato la possibilità di di vederle anche è stato un piacere no no piacere mio veramente se passi in Italia faccelo sapere esatto se passi in Italia vacanze presentazioni scrivici sì ok è stato che io sono qui io passi con il vino quindi ah sì sì ottimo nelle langhe nelle langhe giusto giusto ottimo tra l'altro la cosa interessante che noi non so se te l'avevo detto un paio di interviste fa abbiamo intervistato un attore che ha interpretato JFK non so se te l'avevo detto che mi diceva appunto che ti conosce molto bene e che il giorno prima dall'intervista che abbiamo fatto eravate eravate insieme Caspar Philipson sì 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 grandissima una grandissima persona un grandissimo attore troppo troppo simpatico sì eravamo credo alla premiere di questo film Holy Spider non so se sì presente sì che era e abbiamo parlato lì sì benissimo che bello ok grazie mille grazie buona serata ciao ciao ciao